Ciao a tutti, io sono Michael e faccio parte della Birindelli Auto. Oggi vi farò vedere come cercare e richiedere una vettura sul nostro sito internet www.birindelli.com Quella che vi sto facendo vedere adesso è la nostra home page e potete vedere che entrando una delle prime cose che trovate sono appunto i filtri per cercare la vostra prossima auto. In questo momento abbiamo più di 500 risultati, per vederli basta premere su questo bottone e si accede alla lista completa dove trovate le fotografie, le caratteristiche e tutti i prezzi di richiesta. Avete la possibilità, grazie a questi filtri, di selezionare la forma che la vostra prossima auto deve avere quindi può essere cabrio, compatta, station wagon oppure un SUV che è quella che sceglierò io in questo momento. Avete la possibilità di decidere se l'auto può essere usata oppure volete un'auto chilometro zero o aziendale. Se avete una marca che preferite potete già selezionarla così come potete selezionare il modello. Avete la possibilità di selezionare l'alimentazione, il range di prezzo e l'anno di questa vettura. Importantissimo, la ricerca avanzata vi permette di accedere ad ulteriori funzionalità e di selezionare il nostro stock a seconda della tipologia di cambio, automatico o manuale, della fascia chilometrica, della serie in cui si trovano fisicamente le vetture. Importantissimi sono queste ulteriori opzioni di ricerca che vi permettono di selezionare quali auto sono idonee ai miei patentati, quali auto sono 4x4, quali auto hanno più di 5 posti oppure se siete dei professionisti, avete la partita IVA o avete un'azienda, quali auto hanno l'IVA esposta e quindi sono fatturabili. In questo momento io sto cercando un SUV e lo vorrei diesel, quindi selezionerò l'alimentazione. In questo esempio arrivo a 180 risultati. Ho la possibilità di scorrere, di selezionare l'auto che più mi interessa, di vederne le fotografie, di poter leggere quelle che sono le dotazioni principali del veicolo e subito qui accanto ho la possibilità di inserire, di compilare questo form dove inserendo semplicemente il mio nome, il mio indirizzo e-mail, che sto facendo in questo momento, e il mio numero di telefono ho la possibilità di mettermi in contatto con la concessionaria dei vendetti. Qui saranno un team di persone in smart working a rispondervi. Io ti ringrazio e per qualsiasi cosa noi ci siamo.